buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del caffè della salute con cucina naturale oggi siamo in compagnia di Venezia Villani che è una tecnologa alimentare ma soprattutto la direttrice di cucina naturale buongiorno e benvenuta grazie buongiorno a voi oggi parliamo di ridurre la nostra impronta ecologica anche in cucina ovvero come noi umani consumiamo le risorse della nostra terra possiamo anche già iniziare a ridurre questo consumo dalla cucina è vero prima di tutto e come facciamo? assolutamente vero ci sono temi molto importanti come il fatto di acquistare vicino piuttosto che scegliere cibi vegetali rispetto a animali ma noi oggi ci soffermiamo su 10 piccoli consigli un decalogo di 10 idee? un decalogo sì molto diciamo semplici alcuni magari saranno già abituati a fare queste cose altre magari possono essere delle idee ok vedo che c'è anche la tua lista quindi possiamo andare subito vai vai allora innanzitutto dobbiamo essere coscienti di quello che già c'è quindi valutare quello che ci serve veramente capire quello che manca magari scriverlo sulla lavagnetta come faccio io e in modo da non rischiare di comprare cose che invece sono magari un po' nascoste ma ci sono una cernita sempre di quello che c'è nell'armadio sì sì prima di distillare la lista della spesa però ancora prima appunto bisogna organizzare i pasti se si può nel senso avere un'idea da ora a quando si farà la prossima spesa quante volte si mangerà a casa in quanti quindi avere proprio un quadro della situazione della settimana esatto dicevo appunto la lista della spesa bisogna avere la lista della spesa e seguirla io sono campione faccio sempre liste su questo ci sono quindi la lista che permette appunto di non rischiare di dimenticarsi cose fondamentali ma anche di cercare di stare orientati su quello che serve davvero perché è vero che ci sono le offerte a volte c'è da incantarsi davanti a certe offerte però se poi si compra qualcosa di fresco un enorme buste di mozzarella a basso prezzo e poi non si mangiano non è stata un'offerta non è stata conveniente abbiamo perso e sprecato quindi proprio non va bene allora una volta arrivati a casa bisogna conservare tutto nel posto giusto il frigorifero del ripiano il pesce quello più freddo gli ortaggi nei cassetti e poi un'altra cosa è controllare lo stato del frigorifero quindi che ci sia la temperatura giusta e che il congelatore non sia brinato perché questo comporta sia un rialzamento della temperatura che un consumo energetico eccessivo e poi direi che anche i cibili si conservano male sì sì per forza perché fa molta più fatica il frigorifero a funzionare arriviamo a parlavamo di congelare allora se vediamo che arrivati a casa con la spesa è veramente troppa roba e non ce la faremo mai a consumarla tutta partiamo subito congelando qualcosa che può essere congelato se ci spaventiamo congeliamo congeliamo oppure anche se abbiamo a cuore la vita di alcuni prodotti io l'esempio mio è il prezzemolo perché compri un bellissimo mazzo di prezzemolo turgido al mercato poi lo metti nel sacchetto in frigo giorno dopo giorno lo vedi sempre più decadente si intristisce sono d'accordo con te anche a me fa un po' e poi proprio ti metti in tristezza allora sabato scorso cosa ho fatto è tornato dal mercato non ti ho lasciato fuori un po' e il resto l'ho subito tagliato e congelato e così è lì che mi aspetta vale anche per altri alimenti come il burro che si può fare a pezzetti e altri tipi di cibi che magari si mangiano più occasionalmente se è possibile fare la spesa più spesso quindi non grandi spese una volta al mese se si può, chiaro che ognuno può avere il suo stile di vita però sicuramente una spesa più frequente di fresco permette di tenere la situazione sotto controllo e tenere d'occhio le scadenze io ho spesso delle crisi di coscienza davanti allo scaffale del yogurt perché appunto tu vedi che davanti giustamente ti hanno messo quelli che scavano prima prima per non farli sprecare e dietro ci sono quelli che magari hanno un bel mese di scadenza allora io cosa faccio per mettermi a posto la coscienza prendo un po' dell'uno e un po' dell'altro quindi uno avanti e uno dietro sì, l'importante è poi a casa ricordarmi di mangiare prima quello che scavano e infine ecco se si è cucinato troppo o magari se si cucina apposta per più volte anche qui congelare o conservare in barattoli il classico è quando gli faccio i legumi non ne faccio un etto ma magari ne faccio mezzo chilo cuocendolo chiaramente dei semi dopodiché ancora bollenti li metti nei barattoli quindi la conserva li capovolgi in modo che si sterilizzi relativamente insomma tutto anche in basso poi quando ti epi lo metti in frego e dura tranquillamente una settimana perfetto dieci piccole cose assolutamente dieci piccoli consigli per ridurre la nostra impronta ecologica anche in cucina io Venezia ti ringrazio, ringrazio i nostri ascoltatori e ovviamente vi do appuntamento alla prossima puntata grazie a tutti